Sì, me lo conosco. No, no, questo perché è un po' più facile. Però se vuol dire che non è mai capitato, dobbiamo sempre. L'altra cosa se dobbiamo prendere. Quando c'è addosso, sembra che c'è addosso. Guarda davanti! Noi! Bia, dove è il tuo bia? Che mangiare? Noi! Noi! Non c'è un po' molto po' tutto. C'è una paura quando la pari e la buona, hanno un po' di copi. Ma quello in teoria, no, non è la popolazione, l'altro è il tuo bia. Ma che ci vuoi... ... ... Grazie a tutti